Sindaco, primo caso a Torricella Sicura? Purtroppo sì, è arrivato anche qui questo primo caso positivo. Cerchiamo adesso di gestire la cosa nel miglior modo possibile. Raccomandiamo naturalmente ai cittadini, agli anziani e ai giovani di mantenere quelle che sono le disposizioni del governo, quindi di non uscire, di non fare neanche le passeggiate, di limitare al massimo l'affluenza delle persone, i raggruppamenti. È necessario resistere ancora, è un appello che faccio di cuore a tutti i cittadini di Torricella e non, affinché questa brutta epidemia possa scendere e si possa invertire la rotta. Il governatore della Regione Abruzzo sta facendo tante cose, così come il Presidente del Consiglio, e le raccomandazioni sono sempre le stesse, di non uscire. Nel pieno rispetto della privacy, però nel protocollo del Covid-19, c'è comunque la necessità di tracciare i contatti della persona positiva. È stato fatto? Allora, la gestione del tracciare i contatti viene fatta dalla ASL e dai medici di base. Io ho avuto un primo contatto della ASL sulle positività del soggetto e la prima cosa che ho fatto alla ASL è di accertarmi che avessero naturalmente tracciato tutte le persone che sono state vicine al soggetto. la ASL mi ha raccomandato e mi ha assicurato che tutte le persone, perlomeno quelle che sono riusciti a rintracciare, a ricordarsi che sono state messe in quarantena. Quante famiglie sono in quarantena a Torricella? Io adesso i dati precisi non li so, perché ripeto, è un'operazione che sta svolgendo la ASL con i medici di base. Posso presumere che ci siano 4 o 5 famiglie. Allora, possiamo chiedere alla protezione civile a quante famiglie porta i viveri o le medicine? Noi ci siamo adoperati subito sul nostro territorio e all'incirca abbiamo già fatto una quindicina di interventi. Abbiamo portato i vivi, ma soprattutto medicinale, soprattutto a persone anziane che non possono uscire di casa. Ci siamo dati da fare su questo.